Scusate se in questo video la mia voce è un po' bassa ma erano le 10 di notte e non potevo urlare come un pazzo come faccio di solito Comunque il video è epico, lasciate like e buona visione Ma ragazzi il mio Marraffe oggi siamo qui su Suicide, Suicide, Suicide Squad Il gioco del film Per chi non l'avesse visto è un film bellissimo io l'ho visto ed è una figata atroce dovete guardarlo Comunque ciao anche a voi Tutto a posto? Avete l'aria di volermi ammazzare? Mi uccido Andiamo a provarlo Dio santo che bella grafica Non è vero Cioè l'aereo si schianta e loro tranquilli escono dal nulla senza graffi Ma si ci sta Ah ci si può muovere Ah non vi ho detto che questo è un gioco per cellulare gratis Oh mio dio ma spara da solo Giuro che non ho fatto niente Eh cos'è sta arma? I punni Ammazzare Vai Ma sono troppo scarsi Mi sa che va a livelli Per ora sono delle merdacce Che bella città tra l'altro Oddio guardatelo rigido Oh mio dio Ma lo posso portare da dove voglio adesso Vieni qua Guardatelo quanto è fiero È l'ora di spaccare qualcuno Yeee Yeee Avevo sbagliato direzione Tre anni che ci stavo assieme E mi ha lasciato per una sporca puttana Si si ti ascolto Ti ascolto Arlet No scusa 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 Ti ascolto Dove devo andare? Passa al fucile automatico Ok Top Oh che figata Mira da solo È facilissimo Non devo far niente praticamente Il gioco più difficile al mondo Eee Che figata Spara fuoco Non si sa dove Bene In che cavolo di posizione ti sei messa Amfami venite qua Morite Sì però fai qualcosa Non stare sempre in quella posizione Arrivando da lì Oh cos'è Cos'è sta roba? Attiva la model Vai vai voglio provarla Eee Che figata Cosa? Si è disintegrato in mille pezzettini Ma sono fatti di sabbia Fatality E il diablo Oddio posso usare il diablo Nooo Questo gioco è bellissimo Oddio Mi sento un drago Ecco cosa si prova ad avere dei super poteri Mamma La torta è pronta Sto cotto E caduto Ora voglio provare Arley Con la sua bella mazza Che figata Yeee sono Arley Sono Arley Oh 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 ma sparano sti zombie Che non sono zombie Non so nemmeno io cosa sono Ma sparano Amfami Diventa sempre più difficile Ammazzali Dagliele in testa queste Sapete cosa mi ricorda? Il miratore Che tira palate Ma io sto picchiando i miei amici Guardate quanti punti esclamatili Minchia oh Non mi fate in tempo a parlare Che ne vengono miliardi Grazie per avermi bruciato Eee lo so fare anch'io Ah non sto urlando perché è notte Ciao Ciao Bruciate Morite Dovete morire tutti Cosa vuoi? Vai via Stavo prelevando i miei big money di youtube Cosa volete? Che non ho fatto niente Muoviti Non è che posso stare delle ore qui Grazie Faccio finta che mi hai dato qualcosa Cos'è questo? Che cos'è? Uno yeti? Oh mio dio Guardate Harley come si mostra Brava Harley Ti vogliamo così Deadshot è il più È il più forte secondo me Cosa stai facendo? Cosa sta facendo? Ma Ma sei serio? Quante volte ti devo dire Harley Di ordinare i tuoi vestiti Non puoi buttarli qua Guarda Magli in giro Pantaloni Non va bene Dove sei Harley? Dove? Dove sei che ti piglio a cazzotti? No 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 Povera Harley Magari a cazzotti prendo qualcos'altro Già Oh oh Stanno arrivando Morite Bravo Almeno tu fai qualcosa Lasciate stare il mio baule di Clash Royale Unfami Non si Non riescono nemmeno Ad andare avanti Oddio cos'è questo? Attenta Harley Si è infilato dentro la macchinetta Muorici Oh Un seggiolino Mi serviva proprio No è difficilissimo col mouse Lo zainetto di quando andavo all'elementari Eccolo dov'è Dagli le Harley Brava Harley Si però Non li stare così attaccata Munizioni dappertutto E non mi servono Che bello Oh che benessere Guardate come Come Vanno a fuoco Che benessere Ma cos'è? Oddio Uno Yeti con un minigun Perete lì Abbazza È immortale È immortale È stato divertente Ma stavo per morire Madonna Quanto ci ho messo Trent'anni Io voglio provare L'abilità speciale Di questo Di il diavolo Cosa? Co Cosa? Chi sei tu? Io Sono tuo padre Ma vai via Ma dov'è? È sparito? Boh Che bello Che bello quanto Prendono fuoco Guardate Guardate che benessere Che benessere Ok basta Ma vengono da davanti Da dietro Da di fronte Manca solo che escano dal muro Finish Oh finalmente Ok ragazzi Per questo episodio È tutto Se vi è piaciuto Lasciate mi piace Commentate Iscrivetevi Noi ci vediamo al prossimo giorno Con un prossimo video Beh ragazzi Per questo Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video